ultima tappa della nostra serata street food a milano perché come potete vedere la situazione sta incominciando a degenerare chef ci abbiamo anche qualcuno che ci offre le rose chef cosa facciamo quindi la nostra ultima tappa adesso andiamo a mangiare il dolcino e dove lo mangiamo in modo giusto per distruggersi una reputazione già fatto marco però devo dire che stai meglio così anche in versione in versione selva attenzione quindi allora ricapitolando adesso è il momento dei saluti grazie non ci serve niente come sempre abbiamo un sacco di ospiti da fuori vedete dall'estero ci seguono ed è fantastico allora siamo l'ultima tappa andiamo a mangiare il dolce siamo a california ok è stata una serata piacevole molto bella abbiamo visitato due posti che consigliamo e andate a vedere le dirette precedenti ovviamente settimana prossima sorpresa ci sarà una piccola sorpresa ancora diversa da quella di questa sera e niente non siamo noi le sorprese non siamo esatto le sorprese esatto noi le nostre facce brutte sono sempre quelle marco con le orecchie a faccino guardate il faccione e niente quindi ragazzi ci vediamo settimana prossima e noi adesso andiamo a mangiarci un bel dolcino saluti da milano ciao 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 ciao